Vittoria netta, vittoria meritata, vittoria figlia di quello che aveva detto ieri in conferenza stampa, un Pescara che deve mantenere l'equilibrio facendo di più in fase propositiva. No, no, abbiamo... la prima cosa che ho chiesto ai ragazzi oggi è di approcciare bene la partita mentalmente perché sarebbe stata una battaglia, specialmente i primi minuti. Mi aspettavo comunque un'olbia propositiva con voglia di passare in vantaggio. Infatti sono partiti subito forti i primi minuti, ma siamo stati bravi a tenere l'equilibrio, ad arrivare sui cross sempre in anticipo, sulle seconde palle. Poi dopo, passato comunque quei 3-4 minuti iniziali, la squadra ha fatto vedere delle ottime cose. Anche in fase difensiva non era facile oggi perché abbiamo accompagnato di più l'azione, quindi sul ribaltamento dovevamo arrivare forte con i difensori e cercare di accorciare subito con i nostri centrocampisti. L'hanno fatto molto bene. Le trame di gioco inizialmente, specialmente nel primo tempo, sono state buone. Potevamo chiudere la partita prima, abbiamo sbagliato un po' di occasioni. Poi nel secondo tempo ci siamo limitati un pochino al mantimento della palla, cercando di trovare lo spazio giusto al momento giusto. Io, Caccioni, in telecronaca le ho fatto i complimenti su due giocatori, perché con la sua, virgolette, cura ha completamente rigenerato Giorgi Tunjov, a mio avviso oggi molto positiva la sua prova, e squizzato settimana dopo settimana diventa questo punto insossicuribile. No, ma al di là che tutta la squadra veramente ha fatto una grandissima partita, anche Roberto, che comunque giocava in una posizione non naturale, è stato sempre molto attento, dirigente, ha sbagliato veramente zero, dai. Ha fatto un'ottima partita. Sì, Giorgi, ma Giorgi sapevamo la qualità di questo ragazzo, doveva solo entrare nell'ottica della mentalità della squadra, quella di sacrificarsi, e poi dopo a livello tecnico e qualitativo sapevamo che lui ci poteva dare qualcosa in più, e oggi penso che abbia fatto un passo in avanti rispetto all'ultima partita. Poi... Le chiedo un'ultima cosa, Caccione, prima di restituire la linea allo studio, le chiedo se guarda la classifica, o se si è solo concentrato al campo e per arrivare ai play-off nella migliore condizione. Veramente, guardo, non la guardo, non mi ricordo neanche i punti, precisamente, quante ne abbiamo. Senza fare i calcoli, dobbiamo andare avanti così, cercando di fare il più vittorie possibile, arrivare in un buono stato di forma ai play-off. Solo questo conta. E cercare di crescere, anche se mancano adesso due partite, ma comunque si può sempre migliorare, anche perché sono arrivato da poco e gli sto chiedendo cose nuove, e i ragazzi mi stanno dando una grande mano.